Oggi primo di novembre vi racconto le letture che ho fatto nel mese di ottobre 2023 Ciao lettori e ciao lettrici, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale se venite qua per la prima volta, ciao Io mi chiamo Martina, oggi stranamente giro un video che uscirà oggi stesso È forse un caso unico, era capitato un'altra volta, forse una sola Perché di solito non funziona così nella mia programmazione del canale Oggi invece è complice il fatto che la giornata è un po' più libera rispetto alle altre, il giorno è festivo Quindi non lavoro neanche io, mattina, presto, giro e se tutto va bene alle tre del pomeriggio questo video dovrebbe essere online Come avrete notato, fra l'altro, la programmazione del canale ha subito anche delle altre variazioni E probabilmente queste variazioni resteranno perché il video della domenica riesco a garantirlo sempre Ho un video o una diretta Il video della settimana, che di solito è stato il martedì, ha subito un po' di slittamenti Ed è probabile che si sposterà al mercoledì Così come sta accadendo oggi Mi viene un po' più comodo con l'organizzazione familiare spostarmi appunto sul mercoledì Ma i contenuti dovrebbero esserci lo stesso, perlomeno ci metterò tutto l'impegno possibile per poterli garantire Mese di ottobre è stato un mese molto difficile dal punto di vista personale Per tanti cambiamenti che ho in atto per quanto riguarda proprio le mie scelte di vita Quindi la nuova professione che poi in realtà è una vecchia Però riprendere tutto non è assolutamente facile Anche se è pieno di tante belle energie Perciò il tempo è poco, ma soprattutto è poca la concentrazione E ciò nonostante, arrivando alla fine di ottobre Proprio oggi, proprio il primo di novembre Mi sono resa conto che un po' di letture me le sono portate a casa E quindi evidentemente la lettura continua ad essere per me quella sorta di costante Che mi permette di avere equilibrio nonostante i vari scossoni dell'esistenza Quindi grazie ai libri, grazie sempre con tutto il cuore Vi faccio vedere che cosa c'è In tutto sono otto libri Ma uno in realtà è un abbandono Quindi non è un libro che ho completato Gli altri sette sì E di questi sette uno è una lettura ancora in corso Quindi i libri completati totalmente nel mese di ottobre sono stati sei E poi ci sono questi due su cui la situazione è un po' differente Io comincio con un breve cenno a quello che ormai è il mio compagno di viaggio da gennaio Molti di voi che seguono questo canale lo sanno Che a gennaio del 2023 ho iniziato la lettura della ricerca del tempo perduto di Proust L'avevo iniziata col GDL e poi ci sono stati un po' di imprevisti strada facendo E sto continuando a leggerlo Ho completato Sodoma e Gomorra che è il volume 4 E trovate qui sul canale una presentazione approfondita Un'analisi approfondita Comunque un pochino più mirata su questo testo Non so quanto approfondita Perché non so quanto sia possibile approfondire Proust Io mi sento sempre molto molto piccola quando mi ritrovo a parlare con qualcuno di questo autore immenso E di quest'opera maestosa Perciò diciamo che ci sono delle considerazioni alle quali ho dedicato un pochino più di tempo Però per approfondire Proust credo che ci voglia una vita Ho anche iniziato poi il quinto volume Sodoma e Gomorra è il quarto La prigioniera è il quinto Ed è anche un volume un po' più smilso rispetto agli altri Qui siamo nella mia edizione Quella Mondadori curata da Giovanni Rabboni Siamo intorno alle 418 pagine se non erro E nel momento in cui sto girando questo video Sono a poco più di metà Qui ci spostiamo completamente rispetto agli altri volumi Che avevano un'ambientazione o molto salottiera oppure da contesto marino Nei momenti in cui il narratore si reca a Balbeck La località appunto di mare che aveva frequentato da prima con la nonna Qui invece ci spostiamo a Parigi e in particolare nella prima parte di questo testo A casa del narratore Che diventa una sorta di gabbia di prigione dorata Nella quale decide di recludere Albertine La ragazza della quale è innamorato Non è propriamente innamorato di Albertine Ma ha un attaccamento molto forte nei confronti di questa ragazza E soprattutto è straordinariamente geloso Quindi per evitare che lei possa incontrare altre persone Decide di tenerla segregata in casa sua Il che è anche abbastanza inquietante se mi rendete conto Tutto questo accompagnato dalla prosa magnifica E ad un certo punto ipnotica di Marcel Proust Che una volta allacciati nella sua malia Vi può allontanare per un certo periodo Può succedere come è capitato a me Però poi vi richiama di nuovo E succede qualcosa di veramente incantevole Quindi procederò con la lettura E poi vi farò un video dedicato Così da tenere questa sorta di aggiornamento Approfondimento fra mille virgolette della ricerca Sempre perché sono nel pieno proprio della Proustamania Questo l'avrete capito Ho letto un libro che ha a che fare con Proust Anche se non è né un saggio né un testo critico È un romanzo in cui però Proust ha un suo ruolo Ed è un libro che vi avevo fatto vedere se non sbaglio In un book haul E che mi è piaciuto moltissimo Dispetto di tutti i miei pregiudizi Poi invece si è rivelato una lettura che ho trovato deliziosa Il libro è Clara legge Proust di Stéphane Carlier Casa editrice Einaudi E' tradotto da Ilaria Gaspari Che è una studiosa di filosofia Una grande appassionata di Proust Ha realizzato un podcast qualche tempo fa Che si chiama She Proust Che trovate su tutte le piattaforme di podcast Nel quale ha affrontato la ricerca Attraverso una serie di interviste A persone che con la ricerca di Proust Hanno avuto qualcosa a che fare nella vita O magari non hanno avuto a che fare nulla Ma voleva chiedere un parere Questo libro mi sembrava dapprima Un po' una cosa frivoletta Leggerina L'ho preso rapita dal titolo Come mi succede tante volte Però avevo i miei pregiudizi Sapete, da lettura un po' insulsa Ecco, ma al solito ve lo dico perché E' necessario scardinarli questi pregiudizi E poi guardarle le cose E come vi dicevo per me è stata una lettura Molto molto piacevole La storia è quella di una giovanissima parrucchiera Clara, lei ha 23 anni Lavora in questo salone Che è un salone un po' vintage Frequentato da una clientela di una certa età Che non vuole sperimentazioni particolari All'ultima moda sui propri capelli Ma una semplicissima piega Per mantenere l'ordine Il salone è gestito dalla signora Abib Che è un personaggio Secondo me un po' pennacchiano Un po' alla Daniel Pennacche Che mi è piaciuto moltissimo E a mio avviso ce ne sono diversi Di personaggi alla Daniel Pennacche Dentro questo romanzo Clara è fidanzata con un ragazzo Che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche Dell'uomo dei sogni È un pompiere Bellissimo Prestante Molto gentile Molto affettuoso Amato dai genitori di lei Che non vedono l'ora Che convolino a nozze Eppure Clara vive un'esistenza Abbastanza piatta Non si sente soddisfatta dalla vita Le manca qualcosa Ad un certo punto Si imbatte In un volume In un libro Che è dalla parte di Swan Cioè il primo volume Della ricerca del tempo perduto Di Proust Questo libro Che è stato dimenticato Da un cliente Nel salone Diventa Il pretesto Perché qualcosa Nella vita di Clara Cambi Lei comincia A leggere Viene totalmente Rapita Dalle pagine Di questo libro E si aprono per lei Degli scenari Inimmaginabili Quindi è un libro Su un evento Che arriva Nella vita Di un personaggio Di questa protagonista In questo caso E ha il potere Di mostrare Un modo diverso Di considerare il mondo Che fino ad allora Non era stato affatto considerato Non vi dico altro C'è chiaramente Un risvolto di trama C'è una componente Molto teatrale Che a me è piaciuta tanto Facendo anche questo Nella vita E mi è piaciuto Tantissimo Il fatto che Questo libro Fa due cose La prima cosa Che fa E rendere Proust Accessibile Cioè ti dice Per leggere Proust Guarda che non devi avere 18 lauree E chissà Quale fine intelletto Ma devi arrivare Al momento in cui Forse non sei tu Che stai cercando Proust Ma è Proust Che ti è venuto a trovare E il che significa Che se ti lasci Una porticina aperta Per le cose Che l'universo Ha in servo Per te Magari Nella tua vita Ci possono essere Delle occasioni Che non avevi considerato E non devi avere Per forza Una formazione Di chissà quale tipo Vai bene così Come sei Appunto Clara Fa la parrucchiera Non ha una formazione Universitaria È una ragazza Come tante altre Una ragazza Semplice Molto graziosa Molto gentile Ma non aveva Ambizioni Professionali Che necessitavano Di un curriculum Di chissà quale genere Eppure Per lei Questa magia È partita E quindi È possibile Per tutti E questa è un'accezione Secondo me Molto bella Anche perché Spesso Proust Viene accusato Di snobismo Caratteristica Che c'è Nel suo libro Che tanti personaggi Hanno Però Non è detto Che questo libro Sia riservato Soltanto A chi Dispone Di conoscenze Di chissà quale genere Il secondo motivo Per cui questo libro Mi è piaciuto molto È il fatto Che leggerlo Mentre si sta leggendo Proust Ti permette Di avere Un confronto diretto Tra Lettrici putative Cioè In più pagine Ci sono dei commenti Su come Clara Sta vivendo Questa lettura di Proust Che cosa succede Quando le arrivano Certe frasi Qual è la sensazione Che lei prova È in diversi commenti Che lei annota Io mi sono sentita Riconosciuta Mi sono sentita Come se stessi Confrontandomi Con un'amica Che stesse vivendo La mia stessa esperienza Di lettura Quando lei a un certo punto Dice Proust È come Fare yoga E io ho detto Da mesi Per me Proust È come fare meditazione Mi sono sentita Perfettamente In sintonia con lei Quella capacità Quella richiesta Da parte Della ricerca Di attenzione Concentrazione Di stogliere La mente Da tutti quei pensieri Molto più pratici Che compaiono Come tante Bolle Nella testa Dalla lista Della spesa Alla conversazione Fatta pochi minuti Prima per telefono Con qualcuno E che devono essere Spostati Perché la lettura Richiede Tutto il nostro essere Tutta la nostra presenza Proprio è un atto Di mindfulness È un atto Di meditazione Lei dice di yoga E io in questo Mi sono sentita Riconosciuta Quindi è un libro Che io consiglio Sicuramente A chi sta leggendo Proust In questo periodo Di affiancarlo Perché appunto È come Trovare una storia Parallela Di una Persona Che come te Sta facendo Questa lettura E da Proust Estrai qualcosa Per la propria vita Ma lo consiglierei Anche in generale A chi sta cercando Una lettura Molto accessibile Quindi con uno stile Molto Semplice Non un lessico Particolarmente ricercato Che però fa bene Al cuore Una di quelle letture Che Ti dicono Ok Guarda che comunque Ci può essere Un'altra Occasione Nella vita Ci può essere Un altro modo Di vivere La tua Esperienza Qui Lascia le porte aperte A quello che può accadere Fatti sorprendere Dal mondo Ecco questo è un libro Che fa anche questa cosa Non è infatti Imprescindibile Aver letto Il romanzo Perché i riferimenti Alla ricerca Ci sono Ma comunque Sono tutti contestuali Alle scoperte Che ne sta facendo Clara Perciò Potete leggerlo Anche se non avete letto Proust E magari poi vi viene Voglia di leggere Proust Può succedere Basta Lasciamo stare Marcelle Per il momento Voglio farvi Un accenno A questo libro Qua Che ho già Discusso Approfonditamente Altrove E il libro È L'albero Della nostra vita Di Joyce Maynard Di Joyce Maynard Casa editrice NNE Casa editrice Che a me piace tantissimo Questo libro Però Fra le varie cose Che ho letto Di questa casa editrice Forse è stato Quello un po' più Deludente È un romanzo Che ci racconta La storia Di una donna Americana Fin da quando Lei è ragazzina E poi seguiamo Quasi tutto il corso Della sua vita Dopo un lutto importante E una violenza subita Questa ragazza Decide di investire Dei soldi Che ha guadagnato Come illustratrice Per comprare Una fattoria Questa fattoria Poi diventa Il teatro Della sua Vita familiare Lei conosce Un artigiano Che sposa E da cui Ha tre figli Ma Questa Composizione Da famiglia Della Mulino Bianco È già Annunciata È una cronaca Di una disfatta Annunciata Per citare Marquez È evidente Che questa famiglia Non è destinata A vivere Nella gioia E nell'equilibrio Per sempre Perché ci sono Dei problemi Molto grossi All'interno Di questa Realtà È un libro Che Io Ho trovato Deludente Su diversi aspetti Perché il tema Della disfatta familiare Secondo me È affrontato In romanzi Più interessanti Per esempio Le correzioni Di Jonathan Franzen Se vogliamo parlare Di dinamiche Familiari Negli Stati Uniti Nell'età Più o meno Contemporanea Questo romanzo L'ho trovato Un po' Prolisso Un po' Ripetitivo È poco centrato Su quei punti forti Che comunque Nella trama Ci sono E che a mio avviso Rimangono un po' Superficiali Non vi dico Altro perché Perché questo è stato Il libro Del GDL L'abbiamo letto Insieme con il gruppo Di lettura Di ottobre E sul canale E sul canale Trovate appunto Facebook Che su Telegram Anche se ultimamente Ci muoviamo molto di più Su Telegram E i libri Li scegliamo Su Telegram Abbiamo già deciso Anche la lettura Del mese di novembre Che sarà Notti al circo Di Angela Carter Fazzi editore Quindi se avete voglia Di agregarvi Procurate il libro Iscrivetevi al canale Telegram E seguite la lettura Insieme a noi Bene Il prossimo libro Che vi faccio vedere Invece è stata Una lettura Molto più convincente Rispetto a Quello Di prima Ed è Un romanzo Anche in questo caso Che vi ho già mostrato In un video Di un paio di giorni fa E il libro è Il Tarlo Di Laila Martinez Casa editrice La nuova frontiera Come sempre Trovate tutti I titoli dei libri Di cui sto parlando Sotto in infobox Quindi poi Potete andare a cercare Da lì Se avete voglia Di recuperare qualcosa Questo libro Mi è piaciuto molto Perché è un libro Che appartiene A quel cosiddetto Realismo gotico Che caratterizza Buona parte Della narrativa Spagnola E soprattutto Sudamericana Contemporanea Ci sono Delle autrici E degli autori Magnifici In questo senso Riescono a scrivere Delle cose Veramente Allucinanti Su questa Su questa linea È venuta in mente Adesso Mariana Enriquez Ma anche Anche altri Di cui Ovviamente Mi sfuggono tutti i nomi Perché è normale Che sia così Però Laila Martinez Si inserisce un pochino In questo filone Pur non essendo Sudamericana Lei è spagnola Il libro Ci porta dentro Una casa Maledetta Una casa Che è stata Costruita Sopra i resti Cela di generazione Ma che cosa Che si vogliono Che si vogliono bene Per trovare Questi protagonisti Della storia Che stanno appunto Sui gradini Più bassi Della società È stata una lettura Molto inquietante Molto perturbante È uno stile di scrittura Che riesce Ad ammantare Tutto Di una specie Di colla È come se vi ritrovaste Addosso della pece A me questa sensazione La trasmette tantissimo Per esempio Yamey Kewan Quando lo leggo Nelle sue opere Come il giardino Di cemento Ad esempio C'è questa colla Io mi sento Proprio appiccicare Addosso Ed è come se Dovessi fare fatica Per togliermi Questo spesso Strato di Durezza Dalle spalle Ed è la stessa cosa Che ho provato Leggendo questo libro Che Comunque ha appunto Una Tutta una sua strutturazione Molto Molto affascinante Se vi piacciono Queste tinte nere Queste storie Di vendette familiari Di famiglie appunto Dove c'è qualcosa Di molto misterioso Molto macabro Molto oscuro Che si Tramanda un po' Di generazione In generazione Soprattutto Di linee femmini Li parliamo Ecco questo è un libro Che io vi consiglio Particolarmente Se volete Proprio una lettura Di questo genere Che vi disturbi Una lettura Non Da Fare prima di andare A letto Non da confetti rosa Ecco Bella La Scavare Bella incisiva Un pungolo Che Non vi lascia Affatto indifferenti Ecco per me è stata Una lettura molto Molto soddisfacente A proposito di famiglie Dove le cose Vanno in maniera strana Questo mese Ho letto due opere teatrali Contenute in un unico volume Si tratta di Per il tuo bene Semidei Di Pier Lorenzo Pisano Casa editrice in Audi Che me lo ha mandato Gentilmente Io li ringrazio Perché io amo leggere Letteratura teatrale E ho avuto anche Il piacere di conversare Con l'autore Proprio qui su youtube Quindi trovate La diretta salvata Abbiamo parlato Della sua Drammaturgia E in particolare Di queste due opere Per il tuo bene Che è già andato in scena E Semidei Sono due opere Di teatro Super contemporaneo Anche se la seconda Non ha un'ambientazione contemporanea Ora vi dico Il primo per il tuo bene È un testo Che parla di famiglia Per l'appunto Ci sono pochi personaggi Ben individuati Dall'autore Che hanno dei ruoli Quindi c'è la madre Il figlio 1 Il figlio 2 Il padre Che svolge la funzione Di mera scenografia E una serie di altri personaggi Che si interrogano Sui ruoli All'interno della famiglia Questo libro è un Scusate non un libro Quest'opera teatrale Che comunque è da leggere Anche È un'indagine Su che cos'è la famiglia Che l'autore sintetizza Con queste parole La famiglia è un'associazione A delinquere Basata sul ricatto d'amore Questa è stata sicuramente L'inveccata Che mi ha spinto A leggere il libro Ma anche Poi Lo svolgimento Del dramma stesso Mi ha coinvolta completamente Perché appunto È una storia Che ci porta dentro Una dimensione familiare Dove L'amore Non è La chiave Di decodifica Di tutto Ma ci sono Delle relazioni Molto più complesse Soprattutto quelle Fra genitori e figli Per esempio All'inizio Proprio del testo La madre Interrogandosi su Cosa leghi Un genitore Ad un figlio Dice Il senso è Che c'è questa persona Più piccola di me Quindi il figlio All'inizio era proprio Di un piccolo imbarazzante A cui tengo Che poi sarebbe Sempre mio figlio E per semplificare Questo sentimento Di volere bene E di gelosia E di tutta una cosa Materna Direi che Mi dispiacerebbe molto Se morisse Ecco Sì Spero che non muoia Questo è un po' Il tono Della storia E anche Il secondo La seconda opera Che si chiama Semidei Affronta la stessa tematica Si parla di relazioni familiari Ma in un contesto diverso Vi dico Teatro super contemporaneo Perché appunto Sono opere recentissime Ma Semidei Come vi accennavo Poc'anzi Non è ambientata Nella contemporaneità Ma nel passato In un passato Tipico Passato classico Quello Dell'Iliade I protagonisti Infatti Sono semidei Cioè sono questi Eroi Che vengono chiamati A combattere In guerra E che non hanno Nessuna voglia Di andare in guerra E quindi Mettono avanti Tutte quelle scuse Possibili Per evitare Questa partenza Che poi si rivela inevitabile Ma ciò che noi Percepiamo Di questi personaggi E la loro E la loro estrema Vulnerabilità Il loro essere Più semi Che dei Il loro essere Più vicini Agli uomini Che altro E il loro vivere La famiglia Come qualcosa Che è necessario Ma al tempo stesso Divorante E il tema Del cibo Del mangiare Proprio Dell'aprire la bocca E divorare le cose È molto presente Vi ha fatto pensare Più tratti A una Certa poetica Di Amelino Tomb Questo bisogno Vorace Di introdurre Dentro sé Tutto quello Che è fuori Per eliminare I nemici E accrescere Potere e presenza Ecco È un'altra delle tematiche Di questo testo Che mi ha colpita Moltissimo Quindi io L'ho apprezzato Veramente tanto L'ho apprezzato Entrambi Per motivi diversi E se ne volete Sapere di più Io vi rimando Sempre all'intervista Con l'autore Andiamo quindi Alle ultime Due letture Vi faccio vedere Prima l'abbandono Su cui non mi soffermo Moltissimo E poi vi mostro L'ultimo libro Che non ho Propriamente letto Ma l'ho ascoltato In audiolibro L'abbandono È Rubare la notte Di Romana Petri Non pensavo Che avrei abbandonato Questo libro Perché lo avete visto Qui su questo canale E avete visto Che avevo tanta voglia Di leggerlo Per due motivi Il primo è che Romana Petri È un'autrice Che ho letto In altre occasioni E mi è piaciuta molto In particolare Avevo letto Poco tempo fa Una raccolta Di racconti Suoi Intitolati Mostruosa maternità Della casa editrice Perrone Se non sbaglio Che mi era piaciuta Moltissimo Il secondo motivo Per cui volevo leggere Questo libro È che racconta La biografia Di Antoine De Senexupri Scusate L'autore Del piccolo principe E a me piacciono Le biografie Mi piace Conoscere la vita Degli scrittori Delle scrittrici E lo sapete Perché Qui su questo canale Ho una rubrica Dedicata Proprio alle vite Dei grandi autori Delle grandi autrici In realtà Questo libro Per me Non ha ingranato Completamente Avevo iniziato A leggerlo Insieme a Margherita Di una Margherita Fra le pagine Infatti poi Mi sono anche dispiaciuta Perché avevamo iniziato Questo viaggio Insieme Che io ho interrotto Molto presto Perché Non riuscivo Proprio a proseguire La lettura Intanto ho trovato Estremamente fastidioso Il personaggio Di Senexupri Un personaggio Così Morbosamente Incollato A sua madre Da risultarmi Intollerabile E Questa distanza Con questo personaggio Leggendo appunto Le lettere Morbose Morbose Non c'è un altro aggettivo Che può essere utilizzato Che lui destinava Alla madre Me lo ha fatto Allontanare moltissimo Probabilmente Non era il momento Di trovarlo Ma anche nel tipo Di scrittura Stavolta Non ho trovato Quel coinvolgimento Che era Invece dettato Da una Narrazione Molto più secca E da situazioni Anche più forti Della raccolta Di racconti Di cui vi dicevo Qui invece Ho trovato Una mollezza E uno stile Anche un pochino Demodè Forse voluto Appositamente Perché l'autore È vissuto Diverso tempo fa Però questo stile Di scrittura Così morbido Così melenzo Così un po' Cuore A me non è piaciuto E non ho avuto Voglia di proseguire La lettura Perché la stavo Trovando Noiosa E dolciastra Ma quel dolciastro Che non è piacevole Da sentire Al gusto E quindi ho deciso Di interrompere Io non mi pongo Problemi sull'abbandono Dei libri Soprattutto quando sono Dei contemporanei Perché Secondo me Ci sono tante cose Tra cui poter scegliere E soprattutto Bisogna Trovare il momento Giusto per una cosa Se un libro Non risuona Va bene così Non so voi Cosa ne pensate Ve l'ho chiesta Tante volte Questa cosa Mi rispondete C'è chi abbandona Senza problemi C'è chi invece Preferisce Proseguire Fino a morire Fino all'ultima pagina Io lo faccio Con i classici Quello sì Perché secondo me Hanno sempre qualcosa Da dire Con i contemporanei Sono molto più indulgente E vado quindi Con l'ultimo Che ho ascoltato Quindi vi metto La miniatura Qui si chiama Il diario geniale Della signorina Shibata Di Emi Yagi Questo libro L'ho scelto Su Audible Perché avevo voglia Di qualcosa di giapponese Io amo tanto La letteratura giapponese In generale Amo anche La narrativa Contemporanea Però 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 Nel caso Di questo libro Anche Nel caso Di questo libro Sono rimasta Abbastanza Perplessa Non dico delusa Perché non avevo Grandi aspettative Però Insoddisfatta Probabilmente sì Questo libro Ci racconta La storia Della signorina Shibata Una donna Giovane Che lavora Per un'azienda Che produce Delle Parti di tubi Quindi Un lavoro Molto Semplice Molto Tradizionale Non particolarmente Creativo Per risparmiarsi Delle fatiche Lavorative Un giorno La signorina Shibata Inventa Di essere Incinta E da quel momento Comincia a fare Esattamente Tutto ciò Che farebbe Una donna Incinta Secondo la progressione Dei mesi Che corrispondono Ai suoi Presunti Quindi Inizia Una dieta Particolare Assume L'acido Folico Frequenta La palestra Comincia ad andare A un corso Di aerobica Si veste Con degli abiti Sempre più Comodi Per poter Contenere Questa pancia Fittizia Che si crea Discute Con i colleghi Dei nomi Possibili Per il nascituro Si inventa Un sesso Per questo bambino E va avanti Così tenendo Un diario Che procede Di settimana In settimana Fino a quando Succede qualcosa Di assolutamente Io direi Insensato Qualcun altro Probabilmente Direbbe imprevedibile Io sono rimasta Piuttosto perplessa Dal Modo In cui L'autrice Ha deciso Di dare Un risvolto A questa storia Che forse Voleva Imitare Un po' Il realismo Magico Ma io credo Che ultimamente Si stia facendo Molta confusione Su che cos'è Il realismo Magico E il risultato È alquanto Imbarazzante Come vi ho detto Nella premessa Io amo tanto Gli autori Le autrici Giapponesi Sia tanto I classici Da Mishima Murakami Ryuka Uwabata Tani Zaki Mi piacciono Moltissimo Sia i contemporanei I più contemporanei Però ultimamente Forse anche Rispettando un certo tipo di gusto Di un certo tipo di pubblico italiano Stanno arrivando dal Giappone Tantissime cose Molto commerciali E molto Molto poco Interessanti Dal punto di vista Sia Della Trama Che Soprattutto Dello stile Di scrittura Che si Presenta Sempre più semplice Sempre più scarno E Sempre Meno credibile Questo è quello Che accade Con tutti i libri Della serie del caffè Per esempio Con una serie di altre cose Che appunto Sono molto commerciali Però Non corrispondono minimamente A quello che Per me È sempre stato Lo spirito Della narrazione Del Giappone E questo libro Per me Rientra un po' In questa fascia Situazione del tutto Inverosimile Con Appunto Un risvolto Che non ha Alcun tipo di spiegazione E con Uno stile Di scrittura Che anziché Avvicinare Il lettore Lo distanzia Sempre di più Io credo che in questo Abbia influito Anche il fatto Che io il libro L'ho ascoltato E in genere Mi piace molto Fare Degli ascolti Seguire le audioletture Però Trovo che La lettrice Non abbia Dato A questo libro Il timbro giusto Io avevo L'impressione Di sentire La doppiatrice Di un anime Quindi Una voce Molto fresca Molto briosa E molto Staccata Dalla realtà Come se Tutto quello Che avviene Non le riguarda Molto Molto Teenager Nei modi Con Una scarsissima Capacità Di riflettere Su quello Che sta accadendo E più volte Mentre ascoltavo Mi ritrovavo Nella condizione Di dire Ma questa frase Non si può pronunciare In questo modo Cioè sta succedendo Una cosa Per cui C'è bisogno Di una Sfumatura Diversa Invece no Era tutto Assolutamente Piatto Privo di sorpresa E il risultato Appunto E che chi ascolta Si ritrova davanti Ad una situazione Totalmente spiazzante Per cui Questa Donna Non prova Un minimo Di rimorso Un minimo Di ripensamento Un minimo Di preoccupazione Un minimo Di entusione Non ha niente Lei decide Che è incinta E fa tutto Accettando Qualsiasi cosa Succede E dando per Scontato Che tutto Deve essere In questa maniera Il fatto Che non ci sia Appunto Una dimensione Riflessiva Del come ti senti Davanti ad una cosa Del genere È abbastanza Atipica Ed è come Guardare Un acquario Dall'esterno Cioè c'è questo Bellissimo vetro Tu guardi Quello che succede Ma non hai idea Di che cosa Stia pensando Il pesce Si comporta Come sempre Anche se c'è qualcosa Di assolutamente Assurdo Che ha Piantato su Quindi Io non Non sono rimasta Affatto convinta Da questo testo Se l'avete letto Datemi un parere Perché Guardate La cosa Non succede Spesso Ma in questo caso Si Non è Nemmeno il primo libro Che ho letto Quest'anno Arrivato dal Giappone Che mi ha lasciato Alquanto Perplessa Quindi non lo so Che cosa sta succedendo O sono io Che sto cominciando A cercare Delle cose O meglio Mi arrivano Delle cose Che poi Non corrispondono A quello Che sto cercando Oppure Dopo aver iniziato A leggere Proust La mia percezione Del resto del mondo Si è totalmente Modificata Non lo so Però appunto Se l'avete letto Confrontiamoci Perché Sono abbastanza Perplessa Su quello Che mi è capitato Fra le mani Intanto però Ho terminato Con il wrap up Di ottobre Voi fatemi sapere Se avete voglia Che cosa avete letto E se conoscete Qualcuno dei libri Di cui ho parlato Scrivetemi pure Sotto nei commenti Io vi ringrazio Per essere stati Qui con me Fino alla fine Del video E noi ci vediamo Presto qui sul canale Per un altro appuntamento Ciao Ciao Ciao